Il lavoro prima di fare il sindaco, che papà è? Quando l'amministrazione comunale troverà dei fondi per riqualificare la scuola Nitti? Queste e tante altre le domande rivolte dagli studenti al sindaco Valvano, in visita in classe. Continua l'esperienza di questi piccoli appassionati giornalisti che alla fine hanno chiesto l'autografo al primo cittadino. Ascoltiamoli. Che lavoro faceva prima di diventare sindaco di Melfi? Il commercialista è dirigente di un'azienda che si occupa della salute e della cura dei disabili. Acquare i bambini? Sì, molto. È l'obiettivo principale della comunità e quindi dell'amministrazione comunale, che voi siete la città del futuro. Cosa ne pensano i cittadini di Melfi nei suoi confronti? No, sono educati, rispettosi, devo dire, non ci sono mai stati episodi di aggressione verbale. Tutto sommato sono contento, esprimo un giudizio positivo. Quando è che l'amministrazione comunale si occuperà anche della nostra scuola, che ha bisogno di laboratori? Ce ne stiamo occupando, stiamo candidando a finanziamento un progetto e speriamo che l'anno prossimo di poter iniziare i lavori. Cosa ne pensa dei cittadini di Melfi? Sono cittadini attivi? Potremmo fare molto di più, nel senso che ce ne sono diversi che si occupano volontariamente dei problemi della nostra comunità e se aumentassero, se ci fosse una partecipazione più ampia, basta rispettare le regole, basta che ognuno di noi rispetti le regole. Perché nel rispettare le regole, per esempio anche quando tu hai un pezzo, hai mangiato le patatine, un pacco di patatine e poi hai tra le mani l'involucro di carta o la lattina della Coca-Cola e anziché lasciarla a terra nel parco, ti poni il problema di dove andare a buttarla e quindi dove riporre quel rifiuto in quel momento tu sei attivo, cioè ti poni il problema della comunità, di che cosa accade per la comunità. Se la lasci a terra e sporchi il parco, le persone che vengono diranno ma no, questo parco è brutto, ma questa città è una brutta città e quindi rispettare le regole significa essere un cittadino attivo. Diciamo che a Melfi non stiamo messi male, ma potremmo fare molto di più e molto dipende soprattutto da voi, sono qui soprattutto per questo, per discutere insieme di quanto è importante che i cittadini, soprattutto i giovani come voi, si sentano impegnati a curare la nostra città. ma non è una bella, non?